Benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come Alexis Sanchez è stato accolto dai tifosi del Marsiglia in un'atmosfera pazzesca all'aeroporto ma ha rischiato l'infortunio per salutare i tifosi. Alexis Sanchez è un nuovo calciatore dell'Oimpec Marsiglia. L'attaccante cileno ha risolto ieri il contratto con l'Inter e con l'accordo già in tasca la trattativa con i francesi si è conclusa in pochissime ore. La nota ufficiale del club è giunta in serata, dopo che il 33enne è sbarcato in Francia, l'Oimpec de Marseille e Alexis Sanchez hanno concordato l'arrivo del giocatore a Marsiglia tramite un accordo di principio. Il nazionale cileno si impegnerà nelle prossime ore subordinatamente al successo delle visite mediche. Il 33enne è atterrato all'aeroporto di Marsiglia in sera ed è stato accolto dai suoi nuovi tifosi in maniera pazzesca, il saluto ha visto fumogeni e bandiere che ha sorpreso il Nino Maravia, calciatore di grande temperamento e che può esaltare davvero una piazza calda come quella marsigliese. L'attaccante cileno si è presentato indossando la maglia numero 70 dell'OM, tenendo tra le mani una sciarpa con la scritta LOM CESTNU, Sanchez si è subito calato nel nuovo ambiente e ha cercato di ingraziarsi la nuova piazza. L'ex giocatore dell'Inter ha posato con i tifosi per foto e ha fermato autografi, prima di tornare all'interno dell'aeroporto Alexis e uscire di nuovo per salutare ancora una volta i nuovi supporter. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.